Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Avanti Livorno. I Amaranto sono reduci da un derby pazzo, quello con il Grosseto vinto in rimonta 5-2 dopo che il primo tempo la formazione di indiani era andata sotto di due reti. Un successo che permette a Livorno di agganciare Siena in vetta alla classifica, dato che i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del Giviborgo. Analizzeremo ovviamente il match contro i Maremmani, poi nella seconda parte di trasmissione come sempre ci proietteremo l'impegno di Domenica che verrà a Livorno impegnato sul campo del San Donato. Tutto questo con i nostri ospiti che parto subito a presentare, come sempre, dalla mia destra, dove torna dopo un paio di settimane d'assenza Jacopo Morelli di Livorno 24 e conduttore di Treda Conamorante. Ciao a tutti, buonasera. Sì, Tono è che ho fatto un po' di riposo, poi mi hai chiamato, ho detto cosa faccio, vado, non vado, vado. Eh, se non avete preso il brutto vizio, no, di fare te le domande a me, una volta ogni tanto è giusto anche comprare. Hai voluto invertire il trend, vabbè, dai, va bene così. Se no sei abituato bene, anche te devi andare in... Vabbè, non voglio spoilerare il perché, ma dillo te. Infatti, peccato non vi siete messi a canto. Invece, in mezzo avete il mental coach dell'Unione Sportiva Livorno, Mauro Martelli. Ciao Mauro, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Mauro che divide quella che sarebbe stata una coppia... Anche Mauro va benissimo. No, ma perché scintille, sarebbero state scintille con Riccardo Berni, ovviamente, il nostro filonista. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Torna a partevarci nel nostro studio anche Pino Burroni, presidente dell'AiAC di Livorno. Ciao Pino. Buonasera e grazie per l'invito. Jacopo, parto subito da te. Le vogliamo il naso e torniamo a domenica, una partita in pazza, perché primo tempo Livorno sotto di due reti, Grosseto che aveva anche meritato il vantaggio, poi nella ripresa è stata tutta un'altra partita, è stato un vero e proprio dominio da parte della formazione di Indiani. Sì, diciamo che nel primo tempo sono un po' tornati i fantasmi dello scorso anno, no? Vedere una squadra comunque di blasone come il Grosseto che va al picchi e domina il primo tempo in quel modo ha portato un po' di timori, no? Davanti ai tifosi. Indiani dice che nel primo tempo comunque i dati sul possesso palla confrontati con quelli del Grosseto si equivalgono e quindi noi ci fidiamo in Indiani, anche se il Grosseto poi nel primo tempo non ha rubato assolutamente niente. E poi nel secondo, io l'ho detto a te in tribuna, perché a un certo punto quando Livorno ha fatto la rimonta con quell'intensità nessuno quasi ci credeva allo stadio. Era bello perché c'era una sorta di silenzio, stupore, nessuno si aspettava, come se non fosse vero quello che stesse accadendo, però è un segnale forte al campionato, un segnale che ci voleva allo spogliatoio e anche allo stadio, alla piazza, perché appunto Livorno ha dimostrato di essere una squadra compatta e di carattere. Come diceva Indiani, appunto questi campionati, sì, contano ovviamente anche la tecnica, il fattore tecnico, ma quello che pesa in maniera specifica è quello caratteriale e si è visto. Mauro, un segnale forte perché di fronte avevi comunque quella che sulla carta è la principale contendente nella corsa da promozione, sotto i due reti all'intervallo. Penso un po' tutti avremmo firmato per il pari in quel momento lì, invece poi nel secondo tempo è stato tutto nato Livorno, che ha segnato subito e da lì non si è più fermato. Io non l'avrei firmato per il pareggio. Ci credevi nonostante due azzare all'intervallo? Sapendo la qualità. I primi 45 minuti non è che avesse fatto granché bene. Vabbè, certo, bene non si è fatto. Poi diciamo che bisogna analizzare anche poi dentro la partita, seconda rete viziata da un fuorigioco. Anche secondo me Marciari è partito, lo ha commentato subito live. Insomma, era proprio in linea perché era un tribuna sopra, quindi era in linea, però fa un po' di discorsi e porta via il vento. Comunque, alla fine sono d'accordo con quello che dice Indiani perché posso garantirti che i ragazzi che erano con me in tribuna prendevano i tempi del possesso palla sia nostro che quello del Grosseto, quindi nel momento in cui l'avversario toccava la palla dentro il centrocampo, scattava il cronometro e così come quello nostro. Quindi il possesso palla è stato più o meno lo stesso. Però poi dal punto di vista dei valori, Livorno è superiore a tutti. Quello importante è dare via alle gambe senza pensare in quel momento lì poi Livorno non ha, in quel modo, non ha avversario. Riccardo, cosa ha detto questa partita? Da due volte l'abbiamo detto, gara gara. Che povera me! Che Grosseto, Riccardo? Secondo me se... No, allora, Grosseto, io ho già detto a tutti quelli che dicevano superiore a noi, io non l'ho mai pensato così, lo sape di nessuno. Però secondo me se si continuava con la stessa formazione se ne prendeva cinque, perché la formazione secondo me era sbagliata. Ho avuto la fortuna, come nelle altre partite, di azzeccare i cambi, però il Livorno è inutile. Sì è vinto 5 a 2, poi vinto 2 a 1 fuori cassa, con una scuola a 9, però regala sempre il primo tempo. Quello che possiamo leggere da queste partite è questo. Per David 2 a 0 sicuramente è successo qualcosa negli spogliatoi, si sono un po' parlati a muso duro e sono entrati in campi più determinati, è vero. Però secondo me la cosa determinante, scusate il gioco di parole, è stato proprio i cambi. Che a te ti mancava una punta centrale che tenesse 3 secondi il pallone, quindi la squadra avanzava di 20 metri e dava respiro. A te ti mancava, giocando con Dionisi, che secondo me non è ancora in condizione, se subito nel secondo tempo è molto meglio. Il Grosseto ha avuto ragione con la formazione che ha messo in campo e quindi vinceva 2 a 0 meritatamente, secondo me poteva fare anche il 3. Poi, ti ripeto, nel secondo tempo l'allenatore è stato bravo lì, a zeccare i cambi, che tra l'altro anche Russo in campo secondo me non era in condizione. Sul primo gol anch'io l'ho rivisto e secondo me era un fuorigioco, però sul primo gol qualcosa in più il portiere ci poteva fare. Il secondo gol, io l'ho rivisto 10 volte, c'è stato Brenna che ha chiamato il fuorigioco come se si giocasse la domenica mattina a pallone fra amici e si è fermato, ha alzato la mano e si è fermato, poi ripresa a correre. Poi vediamo anche le immagini. Poi, se ti guardi gli highlights, il portiere non ci poteva fare nulla su quel gol lì, però ha fatto un'uscita che non ci combinava niente, niente. Non so se l'hai visto, infatti l'ho messaggiato mentre eravate ingradinata, era tre passi dal palo di copertura in avanti, quindi tre passi, si deve fare un corpo di reni, tre passi metti due metri, sono nove metri e mezzo. O se l'ho moragno, che ti attacchi alla traversa, se no al palo di fondo non ci arrivi. Vediamo, iniziamo a vedere anche qualche immagine, così magari andiamo anche a commentarle, anche insieme a Pino. Pino, Riccardo prima diceva che decisivi sono stati i cambi, effettivamente l'ingresso in campo di Rossetti ha dato più peso offensivo al Livorno, Rossetti che poi ha trovato anche due gol, e anche Arcuri al debutto stagionale sulla sinistra ha fatto molto bene e nel frattempo vediamo se il gol a Diego Mobili o il gol che ha sbloccato la partita. Non me l'ha anche toccata qualcuno la pallare. È stato oggetto di discussione poi anche nel post partita, ad esempio Capparella ha detto che... Io non so, a me sembra forse si è stato un po' strozzato il tiro. Anche a me, manca a me, manca a me è sembrato un tiro strozzato, non era una conclusione forse resistente. Poi era... Forse l'ha vista a partire dopo taglio. Andava due al pallone. Una conclusione strozzata, non sicuramente un tiro... E' mancato il colpo di Renni. E' mancato il colpo di Renni. Poi se guardi il secondo gol, lo prendeva sicuramente perché, diciamo l'azione l'ha scavarcata, però ti ripeto, cioè la posizione del portere non ci combinava niente. Mi guarda. Qui, deviazione... Io non riesco... E' passi sotto le gambe. Mi sembra passi sotto, ma che non ci sia deviazione. Forse c'è comunque... Non credo che devi la traiettoria. È stata una conclusione abbastanza strozzata. Pino, dicevamo, dei cambi operati nell'intervallo da indiani, quello di Rossetti e anche quello di Arcuri, secondo me hanno spostato un po', perché Livorno ha trovato peso offensivo davanti, Dancona a sinistra nel primo tempo ha faticato molto proprio con Mobilio, Arcuri invece è entrato molto bene in partita. L'ha detto tutto te. Effettivamente è stato un cambio, secondo me, normalissimo. Non ha azzeccato, ma è voluto perché mancava proprio chi si uteneva un po' la palla per far crescere la squadra, farla venire, scorciarla un po', e nello stesso tempo almeno si arrivava in porta con più facilità. La parte del difensore, sì, è stato un dramma. Questo ragazzo, senza dubbio, è partito male e è arrivato peggio. Il cambio è stato giusto e ha dimostrato che non era poi quel giocatore che sembrava. Però ricordiamoci una cosa, mi sa, e è la mia pressione, non il primo tempo, non è che si regala. Penso che gli altri esprimono il massimo di loro stessi per non soccombere magari subito. E però dopo la pagano il secondo tempo perché noi si esce fuori vuol dire che abbiamo tanto delle gambe rispetto agli altri e anche nella testa. E queste sono quelle combinazioni che testa e gambe è il massimo e si riesce sempre a fare quello che abbiamo fatto. Senza considerare abbiamo fatto 5-1, più bello dell'altro. Uno è stato... Loro avevamo avuto fortuna. La prima, secondo me, forse il portiere non l'ha nemmeno vista perché ce l'ha avuto tutti davanti e qualcuno sicuramente l'ha toccato. È passata sicuramente a mezzo a qualche gamba. Esatto, o l'ha toccata a qualche gamba oppure è passata fra le gambe a qualcuno. perché se no sarebbe stata una palla abbastanza innocua. Andava a due. E noi si è fatto 5-1, più bello dell'altro. Veramente formidabili. E noi si stiamo giocando anche bene, strano, ma perché in D non è semplice e si gioca anche bene. Riccardo vuoi commentare anche il secondo gol del Grosetio, quello di Mazzieri? Sicuramente il gol lo faccio uguale, ma la posizione sua è sbagliata completamente. Cioè, te non puoi stare quasi al limite dell'area piccola sull'uomo e vena a crossarea. Cioè, è una posizione che si è andata a chiudere praticamente sul primo palo lasciando ovviamente... No, quasi, no, scusa mia, se la riguardi, ha lasciato quasi anche scoperto il primo palo. Cioè, mettiamo a video se riusciamo così appunto... Secondo me ha lasciato quasi scoperto anche il primo palo. Quindi secondo te Tani ha fatto che non ci facciamo... No. Allora, anche il difensore ha sbagliato. E' lui che mi chiamato. Allora, sulla posizione lì del... Cioè, l'ingolo faceva uguale. Però la posizione del portiere lì secondo me è sbagliata. È sbagliata. Guarda dove va, guarda, guarda dove è. Guarda dove è. Fa il passo anche in avanti. In avanti. E' andato a chiudere, è andato a chiudere sul primo avversario disponibile. Sul primo avversario disponibile. No. L'attaccante ha fatto una bella mossa perché è saltato prima. Quindi ha preso la posizione e poi l'ha sorclassato fisicamente perché ha preso la posizione per prima e ha fatto gol. Allora bisogna dire anche di Tani il salvataggio che ha fatto sull'1-0. Su 2-1-0. Perché allora è in travello e cambia il discorso. Jacopo vuole aggiungere qualcosa? No, dico, secondo me è l'Itani come diceva Riccardo. se hai visto il passo che fa anche diceva Mauro in avanti. In avanti ce l'ha fatto in avanti. Il passo lì secondo me lì ha pensato di uscire basso sul cross. Su un caso di chiudere lo specchio in questo caso a chiudere un po' lo specchio della porta. Però lì in mobile si trovava poi a fare il tocco sotto a mettere il cross e Marsella ancora di più a scavalcare il difensore. Però ti ripeto secondo me lì è stata l'incertezza di dire mi butto basso o no e lì poi hai visto poi tornato indietro e poi era troppo tardi. Cioè con la palla lì lo prendevi uguale il gol. Sì 90 su 100 poi con Marsella lo prendevi uguale. E poi secondo me ragione Pino ha sbagliato anche il difensore. D'altra parte se non si sbagliasse 0-0 le partite si dice. Sì che è chiaro c'è sempre un errore da parte di qualcuno ma quello era un gol che si poteva senza dubbio magari non prendere. Anche se appunto secondo me forse viziato non si riesce a vedere bene dalle immagini dopo Marzi Erlil probabilmente partiva dalla posizione di offside nella sponda di testa poi a mobilio. Io non ero in una posizione felice ma da lontano dava l'impressione fosse in linea o più o meno. Posizione A sicuramente ambilico. Sicuramente ambilico. Sì sì. A di là di questo comunque il di Borno poi è stato bravissimo. Non si può vedere. Come? Eh no. Oddio c'è non so se c'è parente su Tani bah. che li tappa ti dici no che tiene che tiene in gioco Marzielli ah ti dici ha ragione ma non è su questa azione che era fuori gioco è quella prima sì sì secondo me è prima quando arriva il primo guarda una Marzielli che poi fa la sponda di testa per mobilio sulla faccia il primo esattamente esattamente che dalle immagini purtroppo l'impressione però sai poi lì Dancona non si è fatto scavalcare eh vada bene cioè Dancona ha tenuto la posizione ha mantenuto poi non ce l'ha fatta intercettare il cross perché le ha fatto la palombella cioè però non è che Dancona non ha tenuto la posizione è stato scavalcato quindi soltanto non è riuscito a evitare il cross però non è che possiamo colpevolizzare Dancona per questo se riusciamo mettiamo a video ma se non si è colpevolizzare niente classifica perché Riccardo vuole aggiungere colpevolizzare Dancona e Tani ma come hanno fatto all'alfago vabbè non è che si è colpevolizzare no ma scusate ha ragione che lì ha sbagliato nella chiusura a tezzino lì ha sbagliato un chiusura ma dov'è che è sbagliata la chiusura non ha coperto come si non ha coperto e quello ha fatto il cross e ho detto ripeto sono cose talmente non cosa che possano succedere un millesimo di sonda è chiaro Dancona comunque ha di fronte a Immobilio che è un giocatore che si fa rispettare però cambiando e le cose sono cambiate Alcuri ha fatto tutta un'altra partita quello è chiaro ma Alcuri non era in condizione d'accordo Alcuri è un giocatore importante se sta bene un giocatore straordinario speriamo se riusciamo a mettere la classifica visto che fortunatamente è un bel vedere fino a questo momento speriamo che resti così anche perché lo scorzano di questi tempi diciamo era un bel vedere e poi purtroppo la stagione è andata comandata il Livorno ha guantato in testa la classifica del Siena a quota 10 segue il Serravezza 8 poi Foligno Poggi Bonzi Griborgo 7 Folonica Gavorano Ossia Amare Figline Orvietana 7 Arronova Trajana 5 Grosseto atterrata in classifica siamo a Montevarchi San Giovanese 4 Tresina Flaminia 2 chiudono Sandonato prossimo avversario degli Amarante Pezzanese a 1 Jacopo guardando la classifica il Grosseto a meno 6 è importante perché sulla carta come organico forse è quella che più si avvicina al Livorno come qualità e si è vista anche nel primo tempo qua al Picchi 6 punti è vero siamo all'inizio però non sono neanche così pochi è già una distanza è già un sentiero ecco da mettere tra Livorno e Grosseto però ti dico oltre al Grosseto per me delusione anche Folonica Gavorano a 6 per ora e visto che io inizio stagione quotavo il Sandonato è stata una sentenza Jacopo è stata una sentenza peggi di Riccardo Berni però con buon uccelli insomma qualche innesto anche ex Livorno avevi dimenga mi aspettavo qualcosina in più ecco forse non ho fatto una sola un solo punto è zero gol fatti il Sandonato non ha ancora segnato domenica ci sarà la sfida che è il migliore attacco Livorno è il peggiore il Sandonato però prima di andare a qualcosa in più prima di analizzare quella partita di domenica Mauro come ti spieghi l'inizio te dici che Livorno ha fatto tutto sommato bene anche il primo tempo però un inizio sicuramente più contratto e questo è capitato già diverse volte diceva Riccardo ci è andato il Livorno su 11 gol ne ha fatto uno nel primo tempo e dieci nella ripresa che lettura ridiamo a questo dato qua io sono d'accordo anche molto compino perché chi vive vede la preparazione atletica che sta continuando cioè qui ci sono delle sezioni di allenamento veramente importanti e quindi a parità di livello e di preparazione Livorno scende volutamente anche all'inizio con le gambe particolarmente pesi poi dopo esce la distanza perché ha una preparazione atletica esagerata veramente superiore alle altre quindi noi guardiamo anche le partite amichevoli precampionato vedevamo già che noi usciavamo sempre il secondo tempo poi c'è anche un fattore diciamo così che su quale bisogna lavorare che quando scendi in campo straniero diciamo così non hai una pressione importante scendi di fronte magari ragazzi del 2006 con 6.000 spettatori la curva piena insomma non è così semplice l'impatto capito poi dopo ti sciogli i lavori e va avanti però c'è anche il discorso più gli avversari vengano in casa fanno muro te comunque devi fare la partita loro giocano di rimessa insomma ci sono tanti fattori che poi vanno a spiegare come mai il primo tempo si è un po' sotto tono ecco non è che il primo tempo abbiano fatto una buona partita però insomma l'abbiamo giocata più o meno alla pari poi sono stati anche degli episodi che hanno fatto sì che venisse fuori il 2-0 quello che conta è poi alla fine Livorno porta a casa la partita magari cercherà il mister di vedere di trovare delle soluzioni anche il reparto difensivo per ovviare a questo discorso nel video continuiamo a vedere le immagini Riccardo secondo me questo è stato il gol fondamentale perché subito inizio del secondo tempo accorci le distanze galvanizzi l'ambiente dall'altra parte per perdere qualche sicurezza all'avversario in questi casi secondo me è fondamentale provare il gol che riapri la partita nei primi 10 minuti perché poi diventa davvero complicato io anche con Jacopo parlando nel post partita direttamente domenica allo stadio diciamo secondo me è stato il gol più importante passavano dieci minuti quella partita poi gli scavi di non riprenderà più no secondo me allora una nota lieta secondo me è parente che è un bel giocatore secondo me ha fatto anche due bei gol domenica è un ragazzo in prospettiva secondo me è molto bravo e un altro giocatore che rispetta l'altro anno non altro secondo me è Rossetti c'ha tutti altri movimenti è meno macchinoso tiene bella la palla va più contro il pallone e poi si trova si fa trovare diciamo nel punto giusto al momento giusto ha ragione forse Mauro sul fatto della preparazione però secondo me è anche ragione Pino sul fatto che sì è vero che nel primo tempo sembrava un po' un ballato ma anche Viglietti aveva due o tre giocatori che secondo me sono fuori forma quindi si è entrato in campo con dei cambi giusti ha azzeccato i cambi cioè quando su 11 calciatori ci ne è tre a metà e la squadra ne risente ha azzeccato i cambi mettendo la punta che fa salire la squadra Arcuri e qualcos'altro e quindi la squadra ne ha tratto il beneficio perché guarda caso infatti i due gol sono arrivati da Rossetti che è stato un subentrato e da quel subentro che secondo me ne ha tratto un beneficio non indifferente tutta la squadra perché senza una punta vera e propria anche il centrocampo soffriva il filtro del centrocampo e attaccare senza punta bisogna essere bravi perché che gioca due esterni e la mezza punta c'era solo Barcellona che c'aveva la mezza punta che si aveva Messi mentre la punta vera e propria soprattutto in questo campionato come diceva giustamente Pino è fondamentale e Arcuri ora sai non so se ha i 90 minuti sulle gambe Mauro lo saprà meglio di me però l'ho visto bene molto meglio di Dancona che secondo me in queste quattro partite a me Dancona lo sa benissimo perché l'ho già detto a me non mi ha mai convinto non è una bocciatura è da rivedere però io ti ripeto come ho già detto altre volte quest'anno cioè devo vincere il campionato e devo mettere quelli sicuramente più in forma come ti ho già detto non sono d'accordo neanche su avermi proposto Russo che non è ancora in forma e anche Dionisi che secondo me non ha i 90 minuti nelle gambe meglio nel secondo tempo far entrare nel secondo tempo quando la squadra sono già un po' più stanche che sicuramente nel primo come magari l'abbiamo visto nelle tre partite precedenti Dionisi che è pieno anche per caratteristiche probabilmente non può fare la prima punta e la sensazione come diceva secondo me giustamente Riccardo è che questo Livone in questo momento non possa fare a meno dei centri avanti che come caratteristiche in rosa c'è solamente Rossetti perché Dionisi una prima punta non l'ha mai stata lo stesso Regoli che abbiamo visto spesso adattato in quella posizione si trova il suo agio partendo da dietro in questo momento Rossetti penso che un posto debba averlo o perlomeno un giocatore con quelle caratteristiche sì infatti parlando anche con insomma altra gente si vede il primo tempo si è visto benissimo che mancava l'uomo forte in cima perché Dionisi oltretutto penso che non sia nemmeno ancora in condizione per fare i 90 minuti e mi sono forse o sbaglierò anche ma meglio degli indiani non c'è nessuno sicché di conseguenza non l'ha tutti sotto mano ma mi sembrava Dionisi che non ce l'abbia le gambe per ora per sopperire a questo l'altra volta che è entrato nel secondo tempo ha dato una grossa mano alla squadra anche perché non essendo una prima punta e allora invece Rossetti sulla carta è una prima punta è l'uomo forte c'è un fisio esagerato che abbia vincito le partite da sé forse forte il fisio che ha e la parte sinistra insomma anche di questo ragazzino d'Alcona dispiace ma effettivamente è un momento no e visto Arcuri ha fatto tanto meglio di lui però questo cosa vuol dire che abbiamo una squadra di rosa piuttosto ampia indipendentemente che sono troppi e credo che l'allenatore si punterà perché qualcuno lo lasci lo lasci andare via ricordiamoci sono state due uscite in settimana Renda Tutto Cuoio e Turini al Serrave questi erano già in calendario però non riuscivano si vede per qualche ragione a trovare le squadre eccetera e hanno aspettato un momentino ma è sempre troppo furta e l'allenatore non può lui deve preoccuparsi di quelli che contano e ne lasci troppi fuori poi al momento opportuno ti possono mancare i giocatori e bisogna tenerli tutto un gruppo e tutti devono essere sulla carta uguale poi chiaramente va sempre i migliori e si spera che questo sia l'anno buono perché ora non manca più niente assolutamente manca secondo me forse uno grande in difesa i difensori mi lasciano un po' più perplexo ecco quella è la parte si prende sempre il go e per ora questo non va bene e manca un uomo forte proprio un uomo alto che riesca a prendere quelle pallate che noi non ci servono mai prima di andare sugli aspetti che magari funzionano meno Jacopo con te rimango su Rossetti Rossetti che è arrivato questo anno a gennaio non ha fatto benissimo nella passata stagione è stato confermato anche non per pieno entusiasmo no della gente eppure in questo inizio di stagione ha risposto presente i gol di domenica sono stati entrambi belli primo ma anche il secondo secondo soprattutto per il movimento e la fame con cui è andato il secondo da attaccante vero proprio si è tuffato sul primo palo è stato un bel gol il primo poi ha fatto una giocata di qualità perché non era per niente facile lo specchio era chiuso praticamente è difficilissimo esatto e l'ha messa in un punto dove insomma la metti dove hai qualità quando hai qualità fai quel tiro lì però ne parlavamo anche mi ricordo a Gavorinano è messo bene fisicamente cioè rispetto allo scorso anno è cresciuto di forma perché è più tirato fisicamente e quindi essendo anche più definito magari la sua condizione insomma è cresciuta è migliorata però domenica abbiamo visto quanto è importante un Marzierli nel corso della partita esatto Grosseto l'aveva nel primo tempo ha fatto un certo tipo di partita quando l'ha messa anche Livorno la partita è cambiata perché poi la differenza sarà lì che Grosseto davanti aveva peso quando attaccava e Livorno invece aveva fatica proprio negli ultimi 20 metri esatto Marzierli fa reparto da solo cioè è incredibile perché riesce a ricevere anche cross in via 60 metri lui è in grado di stoppare mettere ordine prendersi il fallo portarsi magari al tiro cioè è un giocatore determinante quindi capiamo anche perché magari forse indiani cercava un profilo del genere senza nulla togliere a Rossetti che sta facendo molto bene e che ecco partendo da aspettative sotto la media secondo me quest'anno invece sta rispondendo molto bene con giocate di qualità che aiutano la squadra perché appunto come dicevi te Dionisi la prima punta non può farla ha provato nei primi minuti sia farsi vedere a centrocampo a fare lo scarico però poi insomma non è continuo in quel ruolo giustamente non avendo mai fatto e Rossetti invece in questo ha risposto bene Jacopo se fosse lui l'attaccante da doppia cifra non si è parlato tanto anche durante l'estate cioè un bomb e se alla fine fosse lui sarebbe incredibile farebbe piacere per Rossetti perché è un buon ragazzo però sarebbe davvero da nessuno se lo aspettava credo magari da doppia cifra poi è difficile mi sembra che Riccardo Verni avesse uno sticato un 7-8 gol se non sbaglio sì che comunque ti dico su me ci stanno cioè partendo da attaccante che non è titolare come partito Rossetti è una cifra che può raggiungere poi se ne fa 10 o più di 10 comunque vuol dire che fa la grande stagione perché è riuscito a mettersi alle spalle magari chi era scettico sulla propria riconferma invece ha risposto alla grande Riccardo Piago aggiunge poi gli messaggi e poi gli dare la prima volta dò ragione a Jacopo grande però però giocando così Livorno e giocando così lui secondo me può fare anche di più molto di più e a ragione lui può essere l'attaccante che va in doppia cifra la punta del Grosseto è bravo cioè è vero è bravo nel tenere palla poi quando c'è due veloci esterni veloci come quelli del Grosseto e a differenza nostra c'hai due tre difensori in linea lenti in chiusura come giustamente diceva Pino se te non ci metti al centro con una veloce in chiusura quella difesa farà sempre acqua perché risaliti se guardi il giocatore io l'ho guardato i movimenti risaliti è bravo a difendere a sinistra quando va a destra perde il 50% della sua potenzialità Brenna è lento e Dancona purtroppo spero di non aver visto ancora il vero Dancona Dancona che comunque a sinistra è adattato perché lui è destro può giocare a sinistra però non è proprio il suo a difesa anche dei ragazzi si a difesa dei ragazzi bravo quindi spero che Arcuri essendo un mancino entri e sia quel giocatore che penso sia perché io ho sempre saputo che come 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 giocatori non c'è niente da 10 Arcuri secondo me se sta bene è un titolare fisso ma poi certo però non sei veloce in chiusura ha ragione Pino però come dicevo Arcuri ha tamponato cioè sulla sinistra non hai più sofferto esattamente ha cambiato anche lui la partita secondo me come diceva l'apertura è stato importante l'ingresso di Rossetti ma anche quello di Arcuri perché ti ha tappato la falla che avevi dietro nel primo tempo pensate davvero è proprio così esattamente non c'è scusati di nessuna natura sono entrati due che hanno fatto hanno cambiato la squadra perché hanno levato quel ragazzino che io mi auguro che successivamente diventi un fenomeno figuriamoci però quest'Arcuri è più difensore e nella parte difensiva quest'altro forse sarà stato anche stanco del primo tempo perché ha corso un sacco e ha fatto dei danni a noi di grossi e mi auguro che questo bimbo invece di Starcuri sia quello che sembra e allora noi è la parte difensiva ve l'ho già detto se no io insisto ora tanto ci arriviamo anche lì anche lì ci arriviamo un messaggio per la pariamo di linea regia a Giordani che fino a fatto Mauro Giordani è sempre a Livorno Dogan ha parlato anche in conferenza stampa hanno cercato con i giocatori e il procuratore una soluzione è un peccato vedere comunque un giocatore perché lo scorso anno era praticamente un totale fisso quest'anno a margini secondo te c'è per quanto tu ne sappia la possibilità che ricordiamo il mercato è finito però Mario ha trovato una recissione consensuale anche per far sì che Mario Giordani vada a trovare spazio che secondo me in Serie D comunque la sua figura può farla Giordani si allena sempre in squadra ieri c'era quindi poi quelle che sono le dinamiche questo non te lo so dire dispiace sì perché dispiace tutti i ragazzi sono tutti bravissimi ragazzi posso dirci Giordani è venuto anche lo scorso anno qua in studio creato anche un ragazzo serio sì ma sono tutti bravi quindi quando qualcuno lascia è sempre comunque un dispiacere perché poi rimane l'affetto rimane il legame della collaborazione quindi però questo è lo sport di conseguenza bisogna cercare di andare avanti speriamo che trovano una soluzione per il bene di tutti ecco sicuramente potremmo vedere adesso lì nella regia poi come suggeriva Pino analizziamo anche quello che fino a questo momento non funziona perfettamente Dentisti il sorriso massima professionalità impegno e qualità a vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici odontoiatri e 10 tra assistenti addette alla segreteria Dentisti il sorriso il sorriso amico a fianco del cittadino Farmacia Farneti la tua farmacia di riferimento a Livorno la farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno viene a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine la farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e altercardiacei e pressori anche a domicilio ordine acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti disponibile su Apple Store e Google Play Farmacia Farneti per starti sempre più vicino hai avuto un sinistro? puoi far tornare la tua auto come nuova? puoi farlo senza alcuna preoccupazione basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili i titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro carrozzeria Marsili a Livorno il via Cessoni 59 telefono 0586 40 96 640 Livorno 24 Livorno 24 Livorno 24? Livorno 24 Nuovo gratuito interattivo indipendente il giornale online che ci appartiene Livorno 24 www.livorno24.com più o meno consulenza energetica agenzia leader nel settore luce e gas operiamo volture subentri cambio fornitore e telefonia chiama Marco per una consulenza gratuita eccoci di nuovo studio Jacopo parto da te analizziamo un po' quello che funziona meno sicuramente è la fase difensiva perché Livorno ha subito sei reti nelle prime quattro gare la porta non è mai rimasta inviolata e tre volte su quattro è passato per primo in svantaggio ecco sicuramente questi sono dati su cui riflettere anche perché poi rincorrere porta anche a un dispendere di energie non indifferente e poi non può sempre andare bene poi non può sempre andare bene e poi è bravo indiani a non alzare la voce a farsi sentire in maniera giusta però secondo me non me ne vorrà Riccardo che sono d'accordo a volte soffri anche centralmente se no non subisci sempre gol il problema del Livorno è sugli esterni perché lì soffri quando prendi delle bucate lì più che altro poi perdi parecchio equilibrio ora non per parlare di Dancona però lo stesso poi sono parola anche di indiani che Dancona deve crescere ancora su questo aspetto di affrontare l'errore nella partita lo sai meglio di me magari però magari fai un errore vedi che l'esterno ti parte una o due volte vai un attimo nella nebbia e si rompe un attimo il domino della difesa su quello c'è da lavorare c'è da trovare un equilibrio sugli esterni magari poi anche una rotazione che possa permetterti di subire il meno poi adesso si nega comunque da vedere che è più un centrale può fare anche il terzino esatto il concetto l'ha fatto è d'utile sicuramente nasce centrale poi l'occorrenza può anche essere spostata e quindi secondo me lui è uno che può darti un'altra scelta e un altro tipo di solidità però ecco il problema del Livorno secondo me più che al centro perché secondo me Brenna e Risaliti sono due su due pilastri sono due garanzie Risaliti è un curriculum di tutto il resto esatto poi è roccioso cioè mi piace come difende sugli esterni forse soffi un po' troppo certe volte faccio rispondere allora Riccardo visto che è la chiamata in casa ho paura ma Dancona secondo me io non lo so Mauro è sicuramente a volo Dancona perché sennò sembra che vogliamo mettere la colpa su Dancona assolutamente no però Dancona quando parte e prende fiducia fa bene si ma l'ha detto appunto indiani giustamente come dice prima errore ma un po' in crisi lo stavo per dire io ora secondo me gioca con l'ansia e avendo paura di sbagliare perché a volte prende parte e poi se fanno errore vanno il pallone vanno il pallone più assoluto i ragazzi vanno il pallone più assoluto e domenica è andato nel pallone proprio aveva perso proprio le staffe secondo me e secondo me proprio non entra in campo tranquillo cioè ha paura proprio di sbagliare e quando giochi o fa il stesso sport Mauro sa la peggior cosa che ci possa essere e peccato perché ha ragione Jacopo quando parte parte bene e ora questo ragazzo qui che hanno preso ora per la difesa io non so io non ho sentito parlare bene e vediamolo anche perché vuole dire un curriculum che se non sbaglio ha fatto 100 partite in Serie C in tre anni quindi un po' meno con una settantina vabbè 70 quindi vuole dire uno che fa 70 partite sicuramente in Serie C la Serie D la dovrebbe fare bene e poi sai c'ha da entrare in certi meccanismi della squadra però ti dico secondo me può essere un innesto molto importante credo che abbia anche già avuto indiani al San Donato mi sembra che abbia già avuto indiani non lo so devo ricontrollare questo non te lo so dire perché si niega al San Donato però in Serie C forse indiani non ci è rimasta ha fatto la promozione della DLG e poi vedi la mente dei giovani vedi è stato al San Donato ma non ci ne andiamo l'anno dopo si niega c'era Brenna però comunque c'era Brenna esattamente esattamente c'era Brenna c'era anche Cardelli perché Cardelli era in Serie C al San Donato qualcuno quindi conosceva Mauro esiste un problema dal punto di vista mentale per quanto riguarda i giovani più in generale senza entrare come la stanno vivendo i ragazzi più giovani in esperienza comunque a Livorno dove la pressione sicuramente è diversa che con tutto rispetto giocare Maria figline il problema mentale di ansia ce l'hanno tutti tutte le detti del mondo tutti non esiste quello che ti dice non c'ho ansia quello che ti dice così ce l'ha più di quell'altro chiunque ha fatto sport o faccia sport ma andava a fare una gara importante o anche normale ha la tensione quindi di conseguenza che succede succede che magari il ragazzo giovane per il ragazzo giovane è più difficile riuscire a isolarla perché il coraggio è quello di sapere quando arriva un pensiero e saperlo isolare un anziano o uno più esperto sa come magari isolarla però ci sono anche degli atleti anche di vari sport di altri sport o anche calciatori con grandissima esperienza che a volte vanno un palla anche loro perché mica sempre magari una partita sente la tensione o la pressione più delle altre magari sbaglia la prima palla e poi quando ti ritorna c'è il rewind della palla precedente ci sono delle tecniche da dover praticare però non è un interruttore cioè non è che va lì clic ok adesso va via è un processo che costa almeno quattro mesi cinque mesi poi a volte torna a gola un peperone ma si dice no non è così facile calcoliamo che per un giovane è più d'utile cioè magari riesci a lavorarci meglio perché l'esercizio le fa in maniera più completa rispetto a che una persona ha un po' più d'esperienza però poi alla fine i frutti si ottengono dopo qualche mese ecco ancora un messaggio anzi prego la regia di rimettere a video che non lo vedo più il numero appunto a cui scriveci sms o whatsapp ci dicano attenzione al Siena loro non prendono mai gol i campionati si vincano con la miglior difesa Pino il Siena ancora zero gol subiti può essere un avversario secondo te felice nella corsa della promozione in questo momento la classifica dice di sì manca a lungo termine? Sì alla fine quando il campionato arriva quasi sempre il primo che ha preso meno gol sulla carta e se non arriva prima arriva nei primi tre chi non prende gol perché è una cosa è una statistica normale e se la fai questa mentalità proviene da lontano perché prima quando c'erano i due punti diventava proprio necessario non prendere gol poi tutti hanno cominciato a dire ma te è meglio prendere e perdere e poi vincere le partite è una vittoria una sconfitta che do pareggia esatto però alla fine ha valore immenso quello di non prendere gol perché poi si presuppone che prima o dopo se c'è gli attaccanti come abbiamo noi la palla dentro si mette sicuramente sicché si parte con quel vantaggio e di conseguenza abbiamo bisogno che la difesa sia messa in maniera tale che si possa portarla fino alla fine di prendere meno gol possibili senza considerare che è vero questo ragazzino qui che è un po' in discussione non sa difendere cioè non ha ancora appreso quando parte è vero perché calcisticamente e teniamente mi sembra validissimo però dalla parte difensiva ha delle pause e sbaglia e lì sarà l'allenatore o chi gli sta vicino o chi fa l'allenatore dei difensori se ce l'ha nella nella scorta di indiani e sicuramente ci possono tirar fuori un buon giocatore i problemi poi rimangono sempre comunque però anche nella parte difensiva voi dite che siamo messi male bene non è così perché manca un veloce tutti e due i centrali sono piuttosto lenti e se per caso vabbè quello dopo sarà anche l'allenatore che aggiusterebbe le cose ma si sucassero con due punte centrali noi uno contro uno si può rischiare alla grande è chiaro che c'è una tattica diversa raggruppi il terzo oppure un giocatore davanti che gli fa da schermo insomma le maniere ci sono però bisogna pensare sempre e comunque a queste cose noi per esempio il gol che abbiamo fatto il primo se avete fatto caso i giocatori del 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 erano tutti dietro a noi ci rincorrevano meppoledrini ma non ci sono mai arrivati siamo arrivati con tre in testa sempre rimasti il vuol dire che in attacco ce l'abbiamo un po' qualcuno che è vispo e veloce e indietro bisognerà che cerchi di metterci un tampone Jacopo sul Siena un avversario credibile poi quello che diceva Pino il Livorno anche per caratteristiche per impostazioni di gioco gioca molto alto e spesso lascia l'uno contro l'uno dietro questo è un rischio eccessivo metteresti Mario in un centrocampista in più un atteggiamento più più lente insomma due domande in una per te no resterei così a livello di modulo non so fare stravolgimenti e il Siena secondo me diciamo che quest'anno ha meno riflettori è sempre il Siena perché è sempre il Siena però ha meno riflettori rispetto al Grosseto Livorno e quindi parte con un po' più di serenità di leggerezza infatti questo è facendo molto bene Mauro sul Siena così facciamo anche un passaggio su quella che Siena Livorno in questo momento occupa prima questa in classifica Siena sarà sicuramente una delle contendenti per la vittoria del campionato poi sai cosa c'è c'è che quando ti ritrovi dopo 6-7 partite sei magari su prendi consapevolezza la consapevolezza per gli avversari è la peggior cosa che è la fiducia che poi ti porta a fare grandi cose io non escluderei anche il Seravezza il Seravezza è una buona squadra dentro la lotta Siena Seravezza se non mi ricordo male ma Jacopo mi fa sicco la testa quindi mi ricordo bene domenica Siena Seravezza sarà una bella partita da vedere ma noi siamo impegnati a vedere quello che farei a Livorno certo ci va il Bernie ci va il Riccardo Bernie falla a credito Siena che sarà non tra molto perché tra un paio di settimane ci sarà appunto Livorno giocherà domenica sul campo di San Donato poi in casa con l'Ossia Amaro e poi ci sarà la trasferta a Siena che ad oggi sarebbe un big match poi magari in due settimane la classifica può cambiare però insomma sicuramente è una partita importante Riccardo così chiude il passaggio anche con te ma io lo senti il Siena non lo so non l'ho mai visto giocare quindi non posso giudicare come gioco e se può essere una nostra antagonista e l'ho visto giocare una volta se non sbaglio col Sandonato Tavernelle che mi sembra col Sandonato Tavernelle che vinse 1-0 però o 2-1 o qualcosa del genere però Sandonato prese due traverse in palo quindi bisogna vedere come giustamente diceva Mauro che hanno preso sicuramente fiducia e che viene questa fiducia e questa forza anche da aver vinto un campionato e aver confermato un'ossatura di squadra bisogna vedere se poi perdi due partite in seguito cosa succede a quell'ossatura capito e quindi ripeto bisogna vederli un attimo giocare quando giocheranno contro i loro e come giocano oppure se li rivedono una volta in televisione ti dirò come giocano secondo me però dire che sono attualmente i nostri antagonisti una squadra che non prende mai gol è sempre ossica vuol dire che è una squadra quadriata sicuramente come qualità Livorno ne ha molta di più quantomeno guardando i singoli interpreti però è una squadra che non subisce mai gol è sempre ossica ad affrontare poi gli basta un gol come è successo nelle prime tre giornate però Pino se lo ricorda noi una volta in C2 se vinto un campionato 1-0 e 0-0 poi non prendere gol vuol dire tanto e poi sono d'accordo anche su quello che diceva Mauro sull'ansia della prestazione perché l'ansia della prestazione è brutta parli comunque c'è l'ansia ma non devi giocare a carte perché mi piace vincere a tutto e non vinci mi piacerebbe vincere però una cosa è l'ansia secondo me della prestazione è una cosa è diverso proprio l'ansia entrando in campo con la paura di sbagliare proprio è diverso perché l'ansia per la prestazione è quella che ti dice che vuoi entrare in campo vincere secondo me invece qualcuno tipo Dancona ha proprio l'ansia perché ha paura dell'errore e quindi quando fa il secondo errore ha come diceva Mauro questa caduta poi Pino è d'accordo con me che hai bisogno di uno veloce in chiusura come il pane come il pane perché la difesa è lenta lentissima a livello cioè a parte le due punte se te invece giocano trovi una squadra che gioca invece che con gli esterni che ora ci giocano tutti perché mettono tutti quota come noi no trovi un allenatore che mette due punte veloci in difficoltà te come giocare col presepe perché ti vanno sempre via sull'1-2 ti vanno sempre via perché la vostra difesa delle quattro partite che ho visto è stata la più lenta delle altre squadre la più lenta è lenta proprio nella ripartenza nell'impostazione io vedo giocatore ecco scusa ma se il giocatore parte la palla parte dal centrale o quello che c'è d'accanto dai due centrali per cosa la tocchi cinque volte la palla che tra l'altro Livorno al massimo c'è dei giocatori che la toccano due volte la palla o fanno subito lo scarico indietro e infatti l'uomo vedi delle cose che l'anno scorso non si vedevano quindi il gioco si deve essere fluido non deve essere fluido solo dal centrocampo deve essere la ripartenenza la difesa cioè secondo me come ti ho detto ti hanno messo in difficoltà loro nel primo tempo proprio per quello perché te eri lento e loro davanti molto veloci perché il mobilio da una parte si riaiesi dall'altra sono calori molto veloci nella ripartenza e nell'impostazione e poi come ti ho detto ti mancava una punta in avanti se vuoi sempre analizzare quella partita lì e a ragione Pino ti hai bisogno di uno veloce in chiusura dopo abbiamo un messaggio ci chiede salve sulla tv locale i grossetani hanno reclamato il rosso su un Marcieli invece del giallo sul loro contropiede che ha originato la punizione da fuori aria nel primo tempo prima del 2-0 è possibile rivederla al rallentatore cosa ne pensate? grazie ce lo manda Paolo che ringraziamo per il messaggio non so se l'abbiamo e se l'abbiamo vediamo se riusciamo a metterlo a video non so se te Jacopo a memoria ti ricordi l'episodio che poi punizione cacciata da Riccobono proprio al limite dell'aria sì l'episodio non mi ricordo se fosse l'ultimo uomo o no eh voglio rivederlo anch'io perché onestamente anche io non mi ricordo quello però non mi sembra poi ci sono stati grandi protesti da parte del grosseto no no esattamente quindi ecco sarebbe da rivedere l'unico l'unico appunto fattore sarebbe capire se fosse stato l'ultimo uomo o meno il fatto di partenza pericolosa Pino prego il ritorno dell'ansia l'ansia è naturale cioè ansia positiva e ansia negativa tutto si deve mettere a disposizione l'ansia è normale che ce l'abbiamo ma il giocatore sa che se ne deve dispare mettiamo al caso i portieri che non hanno poi i poveracci nessun aiuto da nessuna parte cosa dovrebbero fare quando hanno sbagliato una volta magari fanno anche anche gol come la mettiamo il giocatore e il portiere in special modo la cosa che si deve allenare è proprio in questo senso che dobbiamo capire che si sbaglia ce ne dobbiamo assolutamente dimenticare lo sbaglio lo devono mettere nel calendario il giocatore perché tocca un sacco di palle e il portiere se fa una gaffe perdi la partita che figuriamoci quanta ansia c'hanno dentro ma deve essere messa nel cantino e forse Mauro in questo ci lavorerà penso io o no Mauro intanto voglio dire che non esiste ansia positiva e ansia negativa smentite subito così clamorosamente non esiste un'ansia positiva e un'ansia negativa l'ansia è un pensiero il pensiero è sempre negativo sia che sia positivo sia che sia negativo e poi sono d'accordo pienamente con Pino che l'atleta di livello la cantona perché non si può togliere la mette da una parte abbiamo la condizione scusami Mauro non abbiamo l'episodio che porta al fallo purtroppo prego Mauro continua quindi sono d'accordo con Pino che l'atleta di livello o quello strutturato riesce ad accantonare i pensieri l'ansia è un pensiero sono le differenziazioni che c'è da un giocatore all'altro poi sai è quando ti giustamente Pino dicevi del portiere però anche la punta se si mangia il gol e arriva sulla palla si però vada è uguale ma non è uguale è come quando un portiere fa la paratona e poi sbaglia ti ricordi la paratona è finita e ti ricordi e hai calito e questo il significato perché dico questo perché è importante determinante che tutto va messo nella testa di qualsiasi giocatore in special modo al portiere che l'errore è ammesso tra virgolette però deve dimenticarsene assolutamente se non porta oggi si può stare a questo proposito Mauro Tanni come l'ha vissuto l'errore che ha fatto a Serravezza contro la Fezzanese poi Indiani l'ha riproposto contro il Gossetanze aggiungendo nel post partita l'ho fatto giocare proprio perché l'ha sbagliato la settimana prima forse se no lo perdi magari se lo lascia in panchina dopo un errore del genere il ragazzo come l'ha vissuta questa settimana questa situazione Tanni l'ha vissuta e l'ha cancellata perché poi ci siamo sentiti abbiamo fatto quello che dovevamo fare quindi Tanni è riuscito a cancellare infatti abbiamo visto a parte una palla quasi all'ultimo che l'ha calciata male per una zolla però poi l'ho visto da quel punto di vista emozionale pulito ecco non l'ho visto con titubanze o cose che andavano a richiamare l'errore che aveva fatto precedentemente l'avete visto ve lo ricordate il gol che ha fatto Tanni scusa Mauro poi fu ti dico la mia no perché abbiamo messaggio proprio su Pertiani il gol che ha preso Tanni in quella partita lì con la pezzanese dove era? a metà campo l'abbiamo analizzato non ha sbagliato Tanni ma assolutamente non ha sbagliato Tanni hanno sbagliato due centrali hanno dirgli oh ma cosa ci farei? perché il giocatore di esperienza ragazzo o giovane anche se è portiere che comanda l'ulta dietro e glielo dice si gira e dice oh te cosa ci farei? e lì hanno sbagliato anche i difensori secondo me no ma secondo te è così? ah eh capito siamo lì che si gioca siamo lì che si gioca mi giro c'è a tre quarti campo il portiere eh tre quarti? no vabbè metà campo metà campo io gli dico oh ma cosa ci farei? va in porta l'errore è dei difensori cosa di portiere abbiamo un messaggio che dice serve un portiere d'esperienza Jacopo il Livorno portiere d'esperienza ce l'ha che è Cardelli secondo te come verrà gestito questo tra virgolette dualismo in porta Tanni e Cardelli a Gavorano ad esempio avevo visto Cardelli alla fine secondo te ci sarà un titolare e un secondo oppure se andavanti di partita in partita si valuturerà di settimana in settimana chi schierare anche in base magari alle quote perché ricordiamo Tanni una quota e Cardelli no secondo me finché ci sarà questa ossatura andrà Tanni e credo che indiani forse non dico prediliga perché comunque conosce Cardelli però sia più per schierare Tanni in questo momento anche per il gioco che vuole proporre o comunque dove il portiere bene o male è attivo anche nella ripartenza dal basso Cardelli abbiamo visto a Gavorano forse un po' non ti dico insicuro però su certe uscite magari troppe volte ho usato i pugni invece di cercare di bloccarla comunque sì poi secondo me alternare troppo i portieri non dà mai una stabilità e non è mai una cosa positiva quanto ne abbiamo parlato lo scorso anno esatto è sempre una questione cruciale con quella del portiere ma tranne basta esatto la tranne non abbiamo visti 4 quindi penso che sia stato raggiunto l'apice guarda che si è giocato con 4 anche ora che come vedi a volte non è nemmeno la quota portiere esattamente è giocato volutamente a 4 quindi andiamo in questa prima uscita ha giocato con 4 è lì che sono rimasto un po' un po' perplesso vuol dire che i portieri se l'eranno e non sanno e invece dovrebbero cercare di trovare un primo anche secondo me anche secondo me sei diciamo della vecchia scuola che importa ci deve essere un titolare e poi non dico che ci deve essere e quello dietro che si è pronto eventualmente lo fa bruciare però è importante che ci sia uno ora Pino l'ha dato dell'anziano la vecchia scuola scusa non hai riferito a Pino ci mancherebbe altro non il mio ma regalata la scuola vecchia non sono più anziano sono vecchio però una squadra va fatta alla colonna vertebrale quindi e quindi ci deve essere l'ossatura principale non nella squadra e il portiere è fondamentale non lo puoi cambiare due partite e mi tieni uno poi discorsi se è due anni si fa questo è il terzo ma poi anche indipendentemente dalle quote o non quote cercherei sempre di tenere una stabilità in porta cioè sempre un portiere e poi magari come diceva Pino uno pronto che sia reattivo a entrare però un portiere fisso ci deve essere quindi sono vecchio anch'io eppure indiani anche nel post partita proprio mi sembra a Seravezza con il profezionese ha detto di voler andare avanti con questa disceglia di settimana in settimana indiani esperienza sicuramente più di noi ce l'ha quindi come l'entrepi questa un gioco di indiani un gioco di indiani secondo me sì stiamo cominciando a conoscere indiani storce la bocca quando gli fa una domanda sui singoli mette sempre è giusto che sia così e lo spogliatoio davanti nel senso fa da parafulmini e quindi anche domenica quando è arrivato e ha parlato del primo tempo ha detto no noi abbiamo giocato bene poi magari nello spogliatoio ha detto guardate ci sono delle cose a sistemare ed è giusto così però lo fa sicuramente anche per tenere l'asticella alta e per permettere a tutti e due di comunque stare sul pronti anche se poi magari scende 10 volte su 15 in Campotani penso che indiani lo faccia apposta ecco e mi piace molto l'atteggiamento indiani schietto e a protezione lo spogliatoio un messaggio buonasera come sta a Malva pensate possa essere una valida alternativa a Rossetti come prima punta anche con il grossetto si è evidenziato come sia fondamentale avere una rete davanti e di buon Rossetti che ha fatto due gran gol domenica non potrà giocare che ha fatto due gran gol domenica non potrà giocare tutte Dionisi non è mai stata una prima punta centrale grazie forza Livorno partiamo dal primo quesito come sta Malva Mauro Malva l'abbiamo rivisto anche nel finale domenica scorsa Malva nel gruppo si allena deve riprendere un po' la condizione perché ovviamente sai un po' di tempo di stop però è un giocatore caratteriale quindi uno che insomma secondo me può esprimere anche delle ottime prestazioni sicuramente farà comodo poi se il mister ha ritenuto di trattenerlo vuol dire che ha tutte le caratteristiche per stare lì cioè noi abbiamo due squadre che a parer mio arriverebbero prima e seconda nel campionato cosa vuole Mauro? un pestone è veramente un buco non piede in pratica un amichevole contro non mi ricordo chi insomma chi altro faceva il precampionato aveva dolore prima a camminare poi a calciare insomma non è stato un recupero comunque lo staff abbiamo uno staff medico che è fenomenale veramente sembra con Rosignano veramente sembra un Rosignano se è fatto male Riccardo Malva chiede al nostro amico può essere un'alternativa a Rossetti dato che come prima punta come caratteristiche c'è in questo momento solamente a Rossetti anche io la penso come Mauro cioè ha delle buone giocate secondo me può essere una valida alternativa per ora secondo me per quello che ha dato e per quello che ha fatto come ti ho detto Rossetti non sembra quello che abbiamo visto l'anno scorso sembra un altro però diciamo benvenga un'alternativa tre singoli da uno da uno che deve deve essere ovunque ovunque e deve riuscire a dare una mano in fase difensiva e in fase offensiva e poi lo fa con un grande piede perché Capparella a parte lo vediamo anche lo scorso anno quando tiro il calcio di punizione col Tau fece dei tiri che davvero ti fanno capire che è un piede notevole e poi ti ripeto cioè ha polmoni ha qualità infatti indiani mi ricordo che per esempio Gavorrano lo chiamò sull'azione su cui poi racco il rigore chiamò lui a ricevere palla infatti pretende tanto da Capparella e Capparella però sta rispondendo bene invece Pino fin qui si ha visto poco Russo Russo che è un giocatore che indiani ha già avuto a San Donato con indiani ha fatto 20 gol fin qui come diceva anche Riccardo prima invece sembra non ancora meglio della condizione e fa bene indiani insistere su di lui allora lui l'ha avuto e meglio di lui non c'è nessuno sicuramente lo conosce lui sa giudicare se insiste vuol dire che è convinto straconvinto che se non ne fa 15-20 gol ma magari 10 le fa e di conseguenza lui ci punta ancora finché è possibile i giocatori che possono possono anche pensare che è il coccolino suo ma non è così lui avendolo avuto e gli ha fatto tutte le partite eccezionali anzi l'ha preso proprio perché mancava fortemente voluto indiani vuol dire che lui ci punta e io non posso criticarlo però lui cerca di rimetterlo in sesto non so se è un problema fisico o mentale perché spesso e volentieri e è vero quando un attaccante che è abituato a fare gol e non vengono in nessuna maniera si comincia a preoccupare e quando ti preoccupi e lo cerchi lo cerchi e non lo trovi è come la titina si dice sempre la cerchi e così è il giocatore quando non riesce fa fuoco e fiamme ma di bella non ho sperando che anche lui si sblocchi e che vada e vada in gol come ha sempre fatto da domenica prossima parleremo della gara di domenica sannuato però dopo il secondo e ultimo sacco pubblicitario la cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata carrozzeria Roma centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi carrozzeria Roma via Uggione 27 a Livorno point di riferimento di restyling auto e sinistri Farmacia Farneti la tua farmacia di riferimento a Livorno la farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno viene a scoprire tutti i nostri servizi e il reparto dedicato agli alimenti senza glutine la farmacia Farneti è centro servizi d'eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e altercardiace e pressori anche a domicilio ordine acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti disponibile su Apple Store e Google Play Farmacia Farneti per starti sempre più vicino Dentisti il sorriso massima professionalità impegno e qualità a vostra disposizione 11 ambulatori e uno staff di eccellenza con 15 medici o dontoiatri e 10 tra assistenti e addette alla segreteria Dentisti il sorriso il sorriso amico a fianco del cittadino Stai cercando di vendere o acquistare casa o hai bisogno di un affitto? Annalisa è al tuo fianco Il suo obiettivo è guidarti nel mercato immobiliare Iacopo parto da tende nel frattempo se riusciamo a mettere a video anche la classifica così riguardiamo la differenza che dice fin qui il campionato tra Livorno e Sanonato ecco subito la regione puntuale Livorno è in testa a 10 Sanonato chiuda 1 sulla carta partita morbida eppure secondo me sono proprio queste gare che hanno sempre l'insiderio a Tolango perché se vince hai fatto il tuo se invece non va bene rischi un po' di appesantire ma mettere in discussione quanto ho fatto fin qui Il Siena dove va? Il Siena c'ha il Seravezza in casa c'è il Siena-Seravezza big match di giornata 1-1 0-0 2-2 4-4 Il Livorno infatti magari in caso di vittoria vorrebbe poter si intesa però ti dico secondo me c'è indiani ex e quindi magari a Sanonato magari hanno cambiato la maggior parte della squadra però già questo è un fattore sul quale far leva secondo Bonuccelli poi come diceva Riccardo contro il Siena la prima giornata hanno preso una traversa all'ultimo minuto hanno rischiato di insomma di rimettere nei binari giusti e quindi secondo me non è da sottolotare perché comunque una certa qualità magari ce l'ha poi è Bonuccelli che forse non sta riuscendo a lasciare la sua identità e poi il campo perché mi ricordo che il campo lo scorso anno non era simpatico soprattutto se trovi la giornata di pioggia e di vento diventa duro secco e quindi difficile giocarci a calcio e quindi ci sono dei fattori che devono portare il Livorno e indiani lo sa sicuramente a girare queste cose e far la partita soprattutto non subire gol nel primo tempo anche se indiani hanno fatto il fioretto nel post partita domenica vi giuro che è in vantaggio il Livorno vedremo però potrebbe essere una partita difficile anche perché il San Donato può trovare la motivazione per dare una vita a un secondo campionato diciamo anche se ancora presto esatto partita trappola Mauro perché il San Donato forse fin qui ha la delusione maggiore insieme a Grosseto perché anche il Grosseto 4 punti in 4 partite sono davvero pochi dal San Donato sicuramente ci si aspettava qualcosa di più ma vogliono sfruttare la partita di cartello contro il Livorno per cercare un rilancio una partita più costica di quello che può dire secondo me la classifica in questo momento perché San Donato qualche valore comunque ce l'ha sicuramente le classifiche si guardano dalla decima giornata in poi per ogni squadra che affronta Livorno è la partita dell'anno lo sappiamo tutti quindi noi bisogna affrontare ogni partita col massimo e il campo non ci avvantaggia perché noi tecnicamente siamo superiori dal punto di vista fisico siamo superiori ora vediamo però anche come organico siamo superiori poi alla fine non è così scontato non è così semplice ogni partita sarà una battaglia fisica emotiva tattica tecnica di qualsiasi modo volevo tornare un attimo sul discorso di Russo a difesa di Russo Russo si è fatto male con una lesione muscolare in una partita di allenamento contro il Ponte Dera quindi al primo rientro è assaltato un mese e mezzo di preparazione poi dopo il rientro si è troncato il dito è restato fermo un altro po' e sappiamo benissimo che le preparazioni di mister indiani sono molto intense ma proprio per quello poi alla fine preparano tantissimo l'atleta si parlava poi prima a telecamere spente del cambio fisico strutturale che ha fatto The Big Man Rossetti quindi a lui gli manca tutta quella che è la preparazione quindi anche lo spunto l'uno contro uno arriva magari è sempre un pochino appannato con le idee però ha tutte le caratteristiche veramente caratteriali per poter riemergere per poter fare un bel campionato quello sicuramente Pino e poi vengo anche da te Riccardo la partita d'allenatore è la partita di domenica come la prepari sicuramente indiani può ripartire da tante certezze perché i risultati sono dalla sua ecco forse lavorerai lavoreresti te perlomeno sulla fase difensiva visto che fin qui è stato un po' il tallone d'Achille lui era Sandonato che tutto sommato ha tenuto la promozione dalla DL5 Sandonato che a Sandonato non credo sia semplice vincere il campionato di Serie D va da Marziari però tutto sommato conosce bene i giocatori e di conseguenza lui si atterrà a una partita e la metterà sul gioco solito di sempre e che poi ora anche Mauro ha sviscerato e ha detto è la verità si dice sempre che quando giocano con noi danno sempre più del 100% perché è una favola da raccontare ho giocato contro il Livorno ho marcato ho vinto eccetera è chiaro questa fantasia perché la chiamo fantasia mi auguro che sia proprio fantasia e però bisogna mettere in preventivo tutte queste contrarietà che abbiamo con tutte le società e le squadre che se lo vogliano le va di tonno anche le società e che vogliano puntare a venire su e che il Livorno se ne vada al più presto da questa categoria figuriamoci noi che siamo parte interessata sotto il profilo proprio di cittadini di Livornesi e di conseguenza mi auguro che ci si pensi bene e ci si deve andare con la volontà di fare al più presto risultato e di non arrivarci sempre al secondo tempo che ci fanno sempre tribolare però è una costanza tutte le volte si spera di sfatarla in questo frangente e che si parta col piede giusto Riccardo ti aspetti qualche cambiamento dal punto di vista della formazione? Ma io non penso io penso che avendo visto appunto che può dare anche un certo minutaggio un certo ritmo partita russo penso che ripropongo la stessa formazione lo senti dal primo minuto però? Sì lo metterei dentro anche perché secondo me diventa difficile dopo una doppietta così lasciarlo fuori ma poi ne ha bisogno ne ha bisogno perché se no la squadra non sale questa squadra qui giocando anche in una maniera un po' spregiudicata l'amantica ha bisogno dell'uomo che tiene la palla anche perché se non c'è lo mettiamo la palla il centrocampo non respira non fa filtro nella difesa ma in difficoltà tanto sono cose che si è sempre detto io ho visto il San Donato da Vernelli giocare contro il Siena come te l'ho detto hanno una buona corsa e un buon gioco e hanno tanta corsa tanta corsa tanta corsa raddoppiano bene secondo me la squadra ci può mettere in difficoltà penso poi che spero poi come dice Pino e come ha detto anche Mauro che indipendentemente dal campo noi dovremmo essere migliori a livello tecnico e spero di vincere 4-0 però loro hanno tanta corsa tanta tanta corsa e raddoppiano molto bene veramente bene sono bravi poi insomma Bonuccelli è un buon allenatore dipendentemente che con la pianese era un gruppo di ragazzi valido infatti si è visto poi l'anno dopo con Prosperi e ha dato su poi ha preso dei calciatori qualche calciatore che conosce anche qualche calciatore ex Livorno quindi sono tutti ragazzi soprattutto le ex Livorno che vorranno fare una buona figura non lo so e poi ricordiamoci che contro la Fivizzanese noi abbiamo vinto con una squadra in nove squadra in nove e loro hanno una corsa e ci siamo trovati un po' in difficoltà quindi non lo so spero non sia una partita come al solito tra bocchetto però queste partite qui secondo me non si soffre squadre giovani squadre con entusiasmo che pressano e raddoppiano bene sopportato di palla spero di aver torto e che poi si vinca come se vinto domenica ecco come ha detto Indiani siamo a partire la sua volta e si faccia 4 gol primo tempo e non il secondo però ti ho detto secondo me tutte le partite come giustamente anche diceva Pino hanno la sua storia giocano contro Livorno io sono dell'opinione che quando se giocassi ancora a pallone beati loro e io giocherei alla morte contro tutti perché secondo me bisogna vincere contro tutti per dare il massimo però anche è vero che farevo a Siena a Grosseto a Livorno insomma come giustamente diceva Pino e come diceva Mauro insomma è una soddisfazione per tutti però vi ripeto sono dei ragazzi che hanno molta gamba e molta corsa e non si arrendono mai infatti quando perdevano continuano ad attaccare se non vado errato hanno preso anche una traversa all'ultimo minuto sì quindi vuol dire carattere non vai errato stranamente scherzo Giacomo che partita d'aspetto ti chiede anche a te formazione no io non mi aspetto Dionisi dal primo minuto titolare ma come dicevate Rossetti perché appunto come ha detto anche il Doge è un giocatore che soprattutto domenica se la partita non si sblocca visto che visto il campo visto che appunto il San Donato comunque ha le misure di quel campo e vuole cercare magari di dare un segnale anche al campionato considerando poi un momento anche di entusiasmo e magari anche di loro che provano ad attaccare e farsi sentire in zona offensiva uno come Rossetti che ti tira fuori dal traffico serve e quindi mi aspetto Rossetti titolare anche perché come dicevi te dopo una doppietta e dopo essere entrato in maniera così determinante si merita comunque un'occasione a più venuto ancora un messaggio guai a dare per morte il Grosseto Riccardo ti faccio rispondere a te mi secondo me sia quello del Grosseto io posso dire concordo perché poi Malotti ha fatto una conferenza stampa a show che è diventata virale esatto è diventata virale è stata ripresa da tutti gli organi di stampa secondo me lì i muri insomma hanno avuto paura e quindi lì o bene bene o male male esattamente anche secondo me il Grosseto domenica non c'è grossi problemi di spogliatore lì dentro perché un allenatore si imbestialisce in quella maniera hai vista la conferenza o a quanto meno qualche stato anche perché è difficile non aver visto qualcosa perché su social è diventato vuol dire che c'è dei problemi di spogliatore non indifferenti non indifferenti e quindi contro chi giocano domenica mi sembra la San Giovanese vado a memoria mi fare in casa con la San Giovanese allora io andrei a vedere se logicamente da Livornese o quanto meno da opinionista non vado a vedere Livorno uno mi dice ok partita va a vedere vado a vedere il Grosseto San Giovanese perché se c'è problema di spogliatore o riperdono casa lì come diceva Jacopo secondo me bene bene male male perché dopo trovi risfatta del genere dopo quello che è successo in settimana conferenza stampa non banale o c'è una reazione forte o rischi di avere patatraca a quel punto il dato trovi i calciatori che giocano contro l'allenatore perché poi quando vieni negli spogliatori e dici è colpa vostra non mi siete rotti di giocare così non vedete che goleata avete preso avete fatto schifo anche se in realtà c'è comunque preso la colpa sua ha detto che è colpa mia anzi se puntate il dito addosso per la Max però ha detto questi giovani vanno presi per la magia è stata un ruolo in costa e poi è vero ha detto però poi trovi anche giocatori secondo me nello spogliatoio perché lì è l'allenatore che si prena delle colpe in televisione bisogna vedere cosa dicevi nello spogliatoio perché poi c'è anche il giocatore per esempio io soppino e non so loro due gli avrei detto scusa ma capo mi ci metti e me lo dici te di giocare così è io ho fatto quello che ha detto cioè certe cose certe dinamiche è logico che rimangano nello spogliatoio l'allenatore è come giustamente diceva Mauro mi ha detto Jacopo difende la squadra come ha fatto indiani prende e dice no la squadra è questa ma sono la responsabilità ha giocato bene ha fatto bene e quindi lui cosa ha detto ma ha detto se non sbaglio li farei a zannare da canale sì diciamo che quello comunque è stato il passaggio finale io l'ho vista tutta un'ora di conferenza lì è stato il passaggio più virale un po' ripresa social comunque nel corso la conferenza secondo me ha difeso abbastanza la squadra si è caricato le responsabilità sulle spalle ma il finale quello che ha detto il finale è stato coltioristico diciamo e secondo me evitabile ma può darsi che può darsi che rispecchi quello che ha detto negli spogliatoi vabbè io farei mea colpa perché vedere alla fine del primo tempo gente cocrampi ce n'era due in terra infatti ha fatto un passaggio anche su questo nella conferenza stata ha fatto un esame di coscienza con tutto rispetto per l'allenatore di Grosseto però c'è da rivedere la preparazione perché se te c'ha due giocatori a terra al primo tempo cocrampi ma l'ha detto infatti l'ha detto che hanno avuto una preparazione su un campo non ottimale per l'usaggio di un eufemismo e tant'è che ha rimarcato questo problema tanti infortuni perché il Grosseto se vi ricordate anche il competale aveva l'uomini contati la conseguenza mancava a metà squadra il Grosseto quindi io non lo può confermare è la regione sono pienamente d'accordo con te però c'è la gente a volte che si butta a terra come l'uccellina a caccia cioè e stanno tre ore in terra con la gamba tirata si vedono anche in serie A serie B per perdere tempo c'è anche questi assuristi non viene a caccia vanno evitate trovi che quello non viene in me toccato si struscia la testa batte le mani in terra cioè si vede certe cose poi si avevano crampi però vi dico anche un'altra cosa secondo me la grossa perdita del Livorno è in doyè la grossa perdita anche quota quindi anche utile e da un cambio passo alla squadra che no sono impressionanti io te l'avevo già detto quando la domenica siamo stati invitati che ci intervistava Jacopo che brutta fine e però sicuramente avranno sbagliato una preparazione come dice giustamente lui però secondo me in alcuni frangenti la vedo anche spesso come una perdita di tempo mi dico tu a zero c'ho crampi aiuto oppure ve lo non viene mai toccato sta a tre ore in terra quello è rimasto a terra per davvero qua alla fine però lo sai cosa c'è manca allora ti dico quando giochi contro manca un vincione un marcato che prende un berni che prende la gente li tira su così e li porta fuori capito oppure non so se hai fatto caso che come è entrato il massaggiatore del grosseto gli ci voleva uno che lo spingesse gli ci voleva uno che lo spingesse dietro ma quello perché non c'aveva la caratteristica fisica però si però se non è tanti lo fanno ha fatto no non ce la faceva proprio prima di andare a chiudere Pino non so se hai avuto modo di seguire la conferenza di Malotti ma più generale ti chiedo se Grosseto può essere ancora una concorrente come dice il nostro amico telespettatore dato che come organico sicuramente è uno di quelli più qualitativi del giugno tutto è possibile in un campionato di serie D lungo stressante eccetera però se punti sono già tanti sono già tanti sono tre partite dice uno no due no e sono tre con due siamo pari per dire ce ne vuole tre noi si deve perdere tre volte e loro vanno vincere tre volte ma una mia tanto semplice ragazzi sì che secondo me sono fuori ma però il gioco del calcio è fatto in una certa maniera e tutto è possibile tutto è possibile posso dire una cosa una pillolina però guardiamo il prossimo turno andiamo a più giugno come ho detto l'anno scorso i bimbi bravi della pianese devono essere i giocatori del Grosseto e non è uguale non è uguale giocare nel paese con 200 persone oppure venire a Livorno con 6.000 è diverso il Grosseto comunque secondo me la qualità però ho fatto una partita più violina suicida perché prendere il gol che ha preso del 2 a 2 a parte invertite il Grosseto era avanti a Livorno prendi il gol in contropiede del 2 a 2 indifendere con due uomini succede a me succede a Livorno insomma a Indiani qualcosa faccio mister ma forse non era meglio guarda il vuoto che ha fatto Amlili il recupero ha fatto e la cavalcata che ha fatto cioè quello vuol dire differenza davvero veramente il pallone lui ha aspettato il tempo giusto per allargare dare la palla alla gente dalla dalla no dato nel tempo giusto ma Amlili è un giocatore che ha fatto sempre nella Serie C ha evitato la pedata sì è una semplice è una meno semplice prossimo turno velocemente poi andiamo ai saluti eccoci qua Montevarchi Pogibonzi Pezzanese Figline Gavorano Flaminia Civitacastellana Ghivibor Gorvietana Grosseto San Giovannese Ostia Mare Terranova San Donato Livorno ovviamente l'abbiamo parlato Siena l'anticipo di caldo di Cristiana Saravezza auspicando un pari a questo punto sì anche se è per i 4 punti e li avevi 2-2 eh no il Livorno deve pensare soltanto a uscire a 3 punti e poi è una banalità e poi sì sì no un pari però secondo me il Saravezza può dire la sua sì sì abbondantemente Cristiana prima o poi un gol prima o poi abbiamo pensato la stessa cosa il gol prima o poi esatto Saravezza è davanti anche messo bene è bravo sì che questa potrebbe essere la partita che intanto il Goettino lo può anche prendere e così vedremo un pochettino se si dice bene noi 1-1 bello Mauro che partiteva a vedere o sta a Livorno c'è una Saravezza anche te vabbè è quello sicuro però mi interesserebbe vedere anche il Givibor Gorvietana perché diciamo che l'Orvietana non mi dispiace più di tanto è una squadra di mezzo alta classifica secondo me però per non dire sempre la stessa partita ecco comunque Riccardo ha detto va a vedere il Grosseto il Grosseto San Giovannese Pino? si fa la macchinata Pino potrebbe anche essere perché sinceramente mi piacerebbe vederla via ci vuoi insieme andate insieme a giudicare mi dispiace il Pino fare il viaggio con Riccardo chiudiamo scherzando ho tempo solamente di ringraziare gli ospiti che ci hanno fatto compagnia questa sera parto da Jacopo Morelli di Livorno24 conduttorete della Fonamaranto ci vediamo quindi domenica domenica sì sì con te ci vediamo in macchina pavero me e poi ci vediamo speriamo il viaggio per andare a seguire questa sfida di Yamaranto ringrazio poi Mauro Martelli mentre al coach dell'Unione Sportiva di Livorno Mauro sempre un piacere un piacere mio ciao buona serata Riccardo lo sai sei sempre accolto a braccia aperte qua nei nostri studi quando ti vogliamo vieni a partire bevete l'aperitivo ci offre l'aperitivo un'altra volta sì qui sta diventando un'abitudine insaziale sì sì insaziale ringrazio poi Pino Burroni Pino anche per te lo sai le porte sono sempre aperte io c'ho piacere che mi chiamate io vengo volentieri anche perché siamo messi venito qui ve l'ho sempre detto è piacevole te ringrazio parlare con te se che di conseguenza con noi no con gli ospiti con gli ospiti è sottinteso con te no Riccardo con San Livorno sempre e speriamo che stanno ci vada dove si deve andare professionisti via speriamo anche perché insomma già tre anni di serie di prima piazza come Livorno iniziano ad essere davvero troppi ho sfruttato di qualche minuto ma abbiamo iniziato dal ritardo quindi regia Sara mi perdonerà ringraziamento finale va a vero che ci avete seguito da casa l'appuntamento con Avanti Livorno è per giovedì prossimo attorno alle 20.30 grazie ancora e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti